Oltre 300 relatori provenienti da tutto il mondo, più di 30 rettori di università africane e 14 sessioni di lavoro parallele per altrettante aree disciplinari. Sono questi i numeri del secondo forum internazionale del Gran Sasso sul tema La Prevenzione, via per un nuovo sviluppo, in programma all'Università di Teramo dal 20 al 22 giugno prossimi. Il tema del forum 2019 è quello della prevenzione, che nasce dal primo verbo del trittico prevenire, investire e costruire, tre parole che l'evangelista Matteo utilizza nel capitolo 25 del suo Vangelo. Un importante evento organizzato in primis dalla diocesi di Teramo Atri, a cui prenderanno parte anche il ministro dell'istruzione Marco Bussetti nella giornata di giovedì 20 e del presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte nella cerimonia conclusiva di sabato 22 giugno. Credo che il forum ha suscitato molto interesse, l'anno scorso era stato di alto livello ma non così esteso come quest'anno, ma credo che il tema della prevenzione, non soltanto perché siamo in un contesto dove esattamente il problema del terremoto, dunque della prevenzione del territorio, ma credo che il tema della prevenzione sia importante anche per rilanciare una nuova progettualità sociale e questo è compito innanzitutto della Chiesa ma anche, e direi, spero, sempre di più di tutto il mondo intellettuale. Per questo anche qui a Teramo abbiamo delle esperienze molto significative come non solo l'università ma anche i centri di ricerca, i conservatori, l'osservatorio astronomico, il zoo profilatico, i laboratori. E credo che sono realtà che possono offrire un contributo importante nell'elaborazione culturale della cultura della prevenzione. Ecco, io sono davvero contento e spero che questo evento della conferenza di lettori africani possa creare anche una continuità di collaborazione e soprattutto per rilanciare poi il tema dello sviluppo.